Musica Vediamo quali sono i titoli principali dei quotidiani regionali di oggi partendo dalla prima pagina di Sassari Notizia. In primo piano lo sport, il basket, il banco si ferma ad un passo dal miracolo, vince Brindisi 88-82. La folle partita della Dinamo Sassari si riassume con quel 19-3 di parziale messo in piedi nell'ultimo quarto. Un'autentica sfuriata guidata da un Logan in versione fenomeno e praticamente in condizione di vedere una vasca da bagno al posto del canestro. La sconfitta di ieri colloca la Dinamo all'ottavo posto in classifica. Nelle prossime settimane sarà obbligatorio tornare alla vittoria per scongiurare il rischio di una mancata partecipazione ai prossimi play-off. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina della Nuova Sardegna. Fuga di Ryanair si quotano anche operai e cassi integrati ma il milione di euro è lontano. Aeri low cost la raccolta a fondi aperta dalle imprese andrà avanti fino al 28 di febbraio. Per evitare il taglio dei voli contribuiscono anche i cassi integrati e operai. Ci spostiamo nella prima pagina di Olbia.it. Sequestra la compagna in casa minacciando di spalarle e di suicidarsi. Nella serata di ieri grazie alla preoccupazione di alcuni cittadini che hanno chiamato il 112 per segnalare le urla e le richieste di aiuto di una donna provenienti da un appartamento in via del Piave di Olbia. I carabinieri del reparto territoriale hanno tratto in arresto un sassarese incensurato di 55 anni e attualmente disoccupato perché responsabile di violenza e maltrattamenti e minacce aggravate nei confronti della propria compagna. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina delle cronache nuoresi. Nuoresi, torpe, danno fuoco al portone della casa del padre del sindaco, indagano i carabinieri. Il vero destinatario dell'intimidazione potrebbe essere il figlio Omar Cabras, il primo cittadino del paese. Già il 19 gennaio scorso l'uomo Pasqualino Cabras di 76 anni, padre del sindaco del paese, era stato spaventato, forse minacciato, con un grosso petardo posizionato nello stesso punto. Una settimana prima un altro attentato, anche se a volta non è andato in porto, contro la casa di un cugino di Omar Cabras. L'oncologo Antonello Cabras, che lavora all'Istituto Tumori di Milano, quella volta un ordinio era stato posizionato davanti a casa della madre del medico. Nella notte, soliti ignoti, hanno versato del liquido infiammabile sul portone dell'abitazione, hanno poi piccato il fuoco, le fiamme sono subito divampate, ma il rogo è stato domato quasi subito da alcuni passanti e i danni fortunatamente non sono gravi. Sull'attentato, indagano i carabinieri. Andiamo avanti e passiamo alla prima pagina di latv.it. Palla si sgonfia il suo volto. La storia della cagnolina arrivata a Oristano, nella clinica veterinaria Due Mari, la scorsa settimana in condizioni paurose da terra alba. Aveva un laccio di nailo stretto al collo, il suo viso era così deformato e gonfio. Ora invece la sua situazione sembra migliorare. Qui vi proponiamo un video in cui si vede il cane più felice, con il viso e il volto sicuramente più sgonfio rispetto alla scorsa settimana. Andiamo avanti e ci spostiamo nella prima pagina di Cagliari Pad. Tenta di rapinare una commessa, 19 anni in manette, sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione del paese che sono riusciti a bloccare e arrestare il giovane. Tentata rapina nella notte a Villa Cidro, vittima a una commessa del centro commerciale Sant'Ignazio e manette finito Alessio Francesco Fanari, di 19 anni, di Marrubio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 30 minuti dopo la mezzanotte, il giovane avrebbe avvicinato la commessa nel parcheggio del centro commerciale. L'ha aggredita nel tentativo di portarle via il portafoglio e l'ha scaraventata a terra. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Villa Cidro che sono riusciti a bloccare e arrestare il 19enne. Infine concludiamo con la prima pagina dell'Unione Sarda.it Sicità, gennaio come agosto, ancora clima primaverile e niente pioggia. Se il mese di dicembre si è chiuso con un calo del 91% delle precipitazioni, spetta gennaio il record di sicità. Il primo mese del 2016 infatti è paragonabile per pioggia caduta a un caldo agosto. Evidenti quindi gli effetti in città con l'inalzamento dei livelli di polveri sottili e nelle campagne dove la natura è sconvolta da un inverno che sembra una primavera. In questa notizia si conclude la rassegna stampa regionale di oggi. Grazie per l'ascolto. Buona giornata. Grazie per la visione. Grazie per la visione.